Allora come mangio bene a casa mia? Una delle frasi tipiche di Livorno, Livorno ama veramente gustare se stesso, quindi tantissimi detti livornesi hanno proprio a che fare con una volontà egoica di appartenenza, cioè proprio una idea di supremazia, cioè che come si vive a Livorno non si vive da nessun'altra parte, che abbiamo il miglior clima del mondo, e questo anche sul cibo, no? È inutile andare in Giappone, è inutile andare a Londra, andare a Milano, come si mangia a Livorno? Non si mangia da nessuna parte, tutti sanno che questo non è vero, però piace molto poterlo dire, e nel mangiare il frate, nel mangiare il 5 e 5, c'è proprio una sorta di sfidare il mondo, di pensare che quello è il miglior luogo dove si fa quel tipo di cibo, il ponce alla Livornese, il bar Civili, i tortai, sono dei punti di riferimento che diventano spirito di appartenenza, spirito del tempo e presunzione di vivere nel luogo migliore. Per questo anche c'è un'idea a Livorno di chiamare il cibo con un nome che si capisce soltanto a Livorno, da tutte le parti in Toscana quella che la torta di ceci viene chiamata cecina o farinata a Liguria, da noi è torta, e se te la chiami cecina già segni un distacco, già si crea il sospetto nei tuoi confronti, e da tutte le parti la ciambella fritta viene chiamata ciambella, da noi si chiama frate per il buco in mezzo. E io ho assistito a una scena a un bar d'estate, una fila chilometrica, e un ragazzo milanese chiese una ciambella indicando il frate, e tutti gli mi chiamavano di no, se no affoghi, ti ci vuole la ciambella, cioè Livorno che accetta ogni forma di diversità, ogni forma di proposta diversa, però sulla rigidità terminologica è chiuso, cioè se non parli come noi, non sei come noi, e allora non puoi mangiare a casa mia, perché a casa mia si mangia bene, come mangio bene a casa mia.